Se c'è qualcosa che mi disturba tantissimo è vedere auto con grosse cilindrate e auto lussuosi fuori dagli alloggi popolari. O hai un Mercedes ultimo modello o hai un alloggio popolare. Entrambi non possono convivere. Il sindaco Mario Conte è perentorio, lo spirito dei controlli in Borgo Capriolo, chiaro. Alloggi popolari ma anche auto di grossa cilindrata passati al setaccio dopo i gravissimi fatti dell'8 febbraio. Quando Branco Durdevic ha sparato colpendolo alla testa ha lo zio Gioco Durdevic, tuttora gravissimo, al cafoncello. Abbiamo cominciato un lavoro importante di verifica delle residenze, quindi andremo a capire se gli assegnatari degli alloggi vivono negli alloggi in modo corretto, che non ci siano ospiti o spostamenti spontanei. Dopodiché cominceremo ad analizzare uno per uno quelli che sono i requisiti economici di queste assegnazioni, le proprietà delle autovetture, i lavori che svolgono, il tutto per ripristinare un principio di legalità che deve essere cardine nella nostra città e per coloro che usufruiscono di un servizio comunale quale gli alloggi. Tre le patuglie messe in campo insieme al canno antidroga Liuc per accertare gli effettivi occupanti degli appartamenti. I dati saranno ora confrontati con quelli in possesso dei servizi sociali, così da monitorare i reali abitanti degli alloggi pubblici. Per tenere sott'occhio i transiti saranno installate anche delle nuove telecamere di videosorveglianza che leggeranno le targhe. I controlli, che saranno frequenti e sistematici, non riguarderanno solo Borgo Capriolo. Laddove i cittadini ci evidenziano delle criticità interveremo in prima battuta per verificare le residenze, in seconda battuta per verificare i requisiti.